Ciao ragazze, allora questo è il giveaway per la festa della donna, quindi per l'8 marzo, vi faccio vedere subito i premi, poi vi spiego tutte le regole. Allora i premi sono 5 e sono equivalenti tutti quanti, sono dei bracciali in charms, questo è il primo, poi ce n'è un altro, spero che riuscite a vedere bene tutti i pendenti che sono davvero molto originali e carini, poi questo tra tutti è il mio preferito perché ha questo splendido anello con il diamantino e questa boccetta di profumo rosa, questo è un altro, questo è carinissimo che è il rossetto e poi questo è l'ultimo. Con il premio ovviamente ogni vincitrice riceverà la scatolina del gioiello firmata by Simon, la busta anche questa chiaramente della by Simon e poi il catalogo e dietro se notate ci sono appunto tutti i loro charms che sono nuovissimi e una nuova collezione appena uscita. Per vincere questi premi cosa fare? Allora è molto semplice, come vi ho già detto le vincitrice saranno 5, quindi anche i commenti ho deciso di farvene lasciare 5 al massimo, quindi ognuno di voi può lasciare sotto questo video da 1 a 5 commenti, potete lasciarne 1, 2, 3, 4 oppure 5, l'importante è non superare appunto i 5 commenti. Nei commenti vorrei che mi scriviate siccome appunto questo giveaway è per l'8 marzo, quindi per la festa della donna, ovvero per ricordare la tragedia che è successa e per la quale poi appunto è nata questa ricorrenza, io vorrei appunto chiedervi di scrivermi nei commenti se volete, ovviamente potete scrivermi qualsiasi cosa, qualsiasi commento sarà valido per il giveaway, però appunto vorrei chiedervi se siete d'accordo e come festeggiare l'8 marzo. Il giveaway durerà 5 giorni, quindi dal 5 al 10, il 10 marzo a mezzanotte tra il 10 e l'11 il giveaway verrà chiuso. Chiaramente oltre a lasciare i commenti dovete essere iscritte sia al mio primo canale che questo dove state vedendo il video che al mio secondo canale e per il mio secondo canale troverete link qui sotto nelle informazioni, quindi 5 vincitrici, 5 commenti al massimo e 5 giorni di tempo e non mi resta che augurarvi buona fortuna, alla prossima, ciao!